Buon lunedì scommettitori, bentornati per una nuova settimana, inizia il mese di giugno, un mese importante visto che torna la Serie A, tornerà la Premier League, torna la Liga, torniamo finalmente in campo con campionati sedi oltre alla Bundesliga. Oggi vestito di rosso, anche se ieri è stato un Green Day, una giornata davvero ottima nelle scommesse, abbiamo iniziato con un All Green 4 su 4 nei consigli della mattina che avevo dato in KBO e che abbiamo già visto ieri, oggi il baseball in Corea è fermo come al solito a lunedì, però siamo andati molto bene anche nelle free pick ufficiali 4 su 4, andiamole a vedere così iniziamo subito col programma del giorno e le free pick che abbiamo selezionato per voi. Abbiamo preso finalmente, sbocciamo con la Bundesliga 2, abbiamo preso finalmente una giocata in questo campionato, Leidenheim che ha vinto contro l'Awe a 1,92, ha vinto 3-0. La tripla di Darius che ieri ha chiuso il mese di maggio col botto, anche lui con un All Green nei suoi canali premium, tripla free pick che ci aveva regalato a 2,69 con la vittoria del Borussia Mönchengladbach, la vittoria del Bate Borisov e l'over 1,5 tra Rook Brest e Dynamo Brest. Giocata entrata senza problemi, come è entrata senza problemi un'altra special sui marcatori, che è una tipologia di giocata che sta andando molto bene. Pannenbor, Borussia Dortmund avevamo consigliato Sancio, marcatore a 2, il Borussia Dortmund dopo un primo tempo chiuso sullo 0-0 ha vinto 6-1, se non sbaglio Sancio ne ha fatti 3. E poi questo ci ha fatto chiudere anche la doppia di D'Artagnani, il Berra doppio a 2 di quota con le vittorie delle due Borussia, Mönchengladbach e il Borussia Dortmund. Quindi 4 su 4 più 4,61 unità di profitto, torniamo a crescere. Tra l'altro siamo andati un pochino peggio nelle tips e i movimenti di mercato, quelli che diamo più veloci, mentre ragioniamo e vediamo insieme il palinsesto quotidiano. Sono arrivate anche delle belle prese, tipo il Regica che alla fine ha vinto, era sotto 2-0 in Coppa di Croazia, ha rivaltato la situazione, ha vinto 3-2, è il Bohemians che ha vinto, è il gol-gol tra Shakhtar e Dinamo Kiev in Ucraina. Quindi diciamo una domenica con le free pick ufficiali, perfetta, in generale abbastanza buona. Tra l'altro a giugno si tornano in pista i nostri tips pro, Zanardi, Stryker, D'Artagnan, abbiamo in mente di fare un super gruppo VIP sul calcio, c'è tornato al lavoro il presidente sui suoi canali, trovate tutto qui giù per entrare qui sotto in descrizione, per entrare nei nostri canali, Telegram, quelli gratuiti dove esce tutto quello che non fa in tempo uscire qui nel podcast e anche quelli VIP e Premium per ricevere tutti i contenuti dai nostri tipster professionisti e aiutarci anche con una piccolissima spesa, meno di un caffè al giorno, a supportare il nostro lavoro, molto meno di un caffè al giorno con le promozioni. Torniamo indietro, andiamo a vedere il programma della giornata, cosa ci aspetta oggi, ovviamente Bundesliga, la ventinovesima giornata del campionato di calcio tedesco, si completa col posticipo di questa sera alle 20.30 da Colonia, con Colonia-Lipsia. Il Colonia non vince da quattro giornate con due pareggi e due sconfitte, compreso l'1-3 subito nel turno infrasettimanale sul campo dell'Hoffenheim, per una squadra che dietro concede molto e potrebbe faticare contro l'attacco dell'Ipsia, che dopo il 5-0 a Magonze è stata fermata sul 2-2 in casa contro l'Erta. Nel Colonia è squalificato Bornau, è in dubbio anche Auntman, sono in dubbio sia Auntman che Risse, mentre in attacco Kane potrebbe sostituire Drexler. Nell'Ipsia dietro è squalificato Alstenberg, mentre in avanti è confermato Schick con Timo Werner e Olmo, mentre è in dubbio Kampl, che ha le prese con la Pubalgia. I gol oggi non dovrebbero mancare, anche se l'Over 2,5 singolarmente ha una quota troppo bassa, la linea 3,5 non ci piace troppo, anche perché siamo alla quarta partita in pochi giorni in Germania, per alzare la quota optiamo quindi con una combo bet X2 più Over 2,5 a 1,75, è una delle nostre free pick ufficiali di oggi, che è già tra l'altro uscita negli articoli di ieri di D'Artagnan. Come sempre a fine rubrica andremo a ripetere tutto. Bielorussia-Vishaya Liga, c'è Minsk contro Slusk, partita che in origine si doveva giocare nel weekend, ma il Minsk ha avuto qualche giorno in più per ritornare dallo stop forzato, visto che questa squadra è stata coinvolta, colpita da Covid, non aveva giocato le ultime due giornate e in pratica il Minsk non gioca una partita ufficiale dall'8 maggio. Oggi ospita uno Slusk che deve riprendersi, visto che è in calo, è al quinto posto dopo due sconfitte e l'1-1 interno contro la Rook-Brest dello scorso turno. Sto vedendo tanto movimento su Over 2,5 e del resto il campionato bielorusso, che era iniziato come un campionato da under, dove i gol non si vedevano nemmeno a pregare, e nelle ultime giornate questo trend è cambiato completamente, l'Avishaya League è diventato un campionato da Over, in ogni caso l'Over 2,5 non ci convince. Aleksandrovic per il Minsk è senza Jarodzki, che è squalificato, poi c'è Chagovic che dovrebbe rimanere in quarantena e c'è anche Vasilyev in dubbio. Piaceva la giocata sullo Slusk, ma con il drono Bet, ovvero il rimborso in caso di pareggio, che è una giocata che troviamo su Bet365, il problema è che Bet365 ha tolto le quote di questa partita, per capirci, c'è un po' di troppe incognite, quindi lasciamola stare come giocata. Passiamo in Danimarca, Superliga, ricco lunedì di calcio danese, quattro partiti in programma dal primo pomeriggio, alle ore 14 con Randers Obro, fino a sera alle 20 con Arus contro Dense per la 25esima giornata della Superliga. Diciamo due cose veloci, Randers Obro è una delle nostre giocate ufficiali, ieri sera ne abbiamo già discusso, vittoria del Randers a 1,73, padroni di casa che secondo noi potranno vincere, anche se la quota è in discesa, purtroppo. Allora, il Randers è ripreso con l'1-1 sul campo dell'Arus, con cui è in piena corsa per il Playoff Championship, mentre per l'Obro c'è la certezza del gruppo retrocessione, per una squadra che in Superliga non vince da qualcosa come 15 partite. Inoltre l'Obro non ha mai segnato nelle ultime 4 partite sul campo del Randers, lo abbiamo detto era interessante, a 1,73, adesso vedo che la quota è in netto calo, si gioca di massima intorno a 1,65, tra i principali book che sto vedendo. Altre partite, Mittalian contro Orsens, i padroni di casa sono nettamente favoriti, al comando del campionato, con 4 vittorie di fila senza nemmeno un gol subito prima dello stop. Mittalian ha vinto 12 delle ultime 13 partite. Poche chance per l'Orsens, che a marzo, dopo 3 sconfitte, era andata a vincere a sorpresa a Copenhagen, ma non crediamo che gli ospiti faranno l'impresa anche alla ripresa, scusate il gioco di parole, qui alla MCA Carina, dove hanno sempre perso nelle ultime 7 partite. Considerate quindi la vittoria del Mittalian, anche se la quota è bassissima, intorno a 1,20, potrebbe comunque esservi utile per le vostre multiple. Andiamo con l'Ingby-Copenhagen alle 18, gli ospiti sono ovviamente favoriti, però alla ripresa l'Ingby in casa potrebbe essere un cliente scomodo. Ne potrebbe uscire una partita da under 2,5, che vale un bel raddoppio pieno, visto che si trova intorno a 2 la quota, e visto che le squadre sono ferme da tempo. Anche prima della pausa l'Ingby era una squadra da under, in casa aveva segnato 3 under consecutivi, allo stesso modo il Copenhagen aveva segnato 3 under di fila in trasferta. Vi dico anche che all'andata è finita 2-0 per il Copenhagen in casa, quindi anche in quel caso fu under, speriamo di vederlo anche oggi, anche se è una delle nostre tips veloci, non ufficiali. E infine Arus Odense, qui si potrebbe andare con l'Arus-0,25 a Gianelli, K1,83, praticamente un mezzo rimborso in caso di pareggio, però andiamo con l'Arus vincente, che prima della pausa aveva portato a casa solo due pareggi e una sconfitta in tre giornate. L'Odense invece ha messo in fila tre pareggi ed è però certa del gruppo retrocessione. L'Arus ha maggior motivazione e ha vinto sia l'andata in trasferta per 2-1 sul campo dell'Odense, sia in casa in Coppa fino a ottobre 1-0. Anche oggi i padroni di casa potranno vincere, vi segnalo la quota dell'1 fisso a 2-10 che è in discesa, la giocata migliore per noi è il mezzo rimborso in caso di pareggio sull'Arus, anche qui i quoti in calo, l'avevamo ad occhiata nel nostro articolo a 1-83, adesso si gioca a 1-70. Altri campionati in programma oggi c'è l'Armenia, gruppo retrocessione di Premier League tra Urartu e Gansazar, ospiti costretti alla vittoria ma poche cose da dire. Isole Faroer, Premier League, quinta giornata con quattro partiti in programma, tre delle quali alle 16, mentre alle 20 si chiude con Argic contro Klaksvik, gli ospiti che cercano la quarta vittoria di fila, mentre per l'Argir ci sono due paregge e due sconfitte finora, un solo gol segnato e ben nove subiti nelle prime quattro giornate. Tornando alle partite delle 16, attenzione a B36 Toshwan contro HB Toshwan, derby, occhio ai padroni di casa che hanno molti assenti, tra cui Justensen, no, Junusen, scusate, mentre nell'HB però non c'è Augustinson, quindi anche qui troppo incognite, lasciamo stare questo campionato delle isole Faroer. Andiamo in Israele con il gruppo retrocessione della Liga Taal e più la Leumet League. Alle 19.15 si gioca Bnei Yehuda contro Kfar Sabah per il gruppo retrocessione del massimo campionato israeliano, padroni di casa favoriti, ma occhio alle sorprese, visto che il Bnei dovrebbe essere senza i due difensori centrali titolari. Ospiti tra l'altro con maggior motivazione per fare punti, vista la situazione in classifica, considerate l'X2 intorno a 1.60. Un quarto d'ora prima di questa partita, alle 19, torna in campo anche la cadetteria israeliana, la Leumet League, con otto partite in programma, quindi tutte e 16 le squadre tornano in campo questa sera per la prima volta dopo lo stop. Posticipo anche in Lituania, seconda giornata di E-Liga, che sarà chiusa da Suduva contro Kaunu Zalgeris, entrambe hanno vinto la prima partita di campionato senza subire gol. nessuna giocata, nessun consiglio da dare qua. Repubblica Ceca, Division 2, posticipo della diciannovesima giornata della seconda Lega del Calcio Ceco, con Borneau contro Ducla Praga, che è una sfida interessante. Il Borneau è tornato in campo, ha vinto la quinta partita di file in campionato, dove è al secondo posto, arriva dal 2-1 sul campo dell'Usti, mentre il Ducla è al quinto posto, e a sua volta è tornata la vittoria per 2-1 contro il Gilava. Partita interessante in cui potremmo vedere entrambe le squadre a segno per un gol-gol. Passiamo un po' in Serbia, in Serbia posticipo della ventisettesima giornata della seconda Lega del Calcio Serbo, con Kolubara contro Metalak. Ospiti al secondo posto puntano a tornare nella massima serie, il Kolubara però può ancora sperare nel riagganciare le prime tre posizioni che valgono la promozione, quindi non mancherà la motivazione. Partita davvero difficile da prevedere, da pronosticare, quindi la passiamo senza problemi e chiudiamo il Turkmenistan con la nostra Yokari Liga, dodicesima giornata, come al solito in campo a lunedì, alle 15 c'è Altinasir contro Energetic e Nebici contro Asgabat. Nella prima sfida la capolista Altinasir cerca la quarta vittoria di fila, nel testa coda con l'Energetic, che però si è sbloccato dopo una serie di sconfitte, grazie al 5-1 interno contro il Nebici, che è al penultimo posto e che oggi ospita l'Asgabat, che non perde da quattro giornate ed è al terzo posto in classifica, anche se di questi quattro risultati tre sono stati pari oggi. Incredibile, oggi non abbiamo né tips veloci né free pick sulla mia amata Yokari Liga purtroppo. E veniamo alle free pick, iniziamo dalle tre giocate ufficiali che abbiamo preso, principali per oggi, Colonia Lipsia, come detto, Combo Bet X2 più over 2,5 a 1,75, la quota è in discesa, vale però comunque un cippino, secondo noi si può anche provare a esagerare con la Combo Bet 2 fisso più over 2,5, anche quella è intorno a 1,90, si salirebbe un po' in quota ovviamente. Poi abbiamo dato in Danimarca Runders contro Obro, già da ieri sera la vittoria del Runders a 1,73, in discesa come abbiamo visto la quota, ma secondo noi la vittoria dei padroni di casa oggi ci sta. E infine una giocata del nostro Morfeo su un amichevole tra squadre islandesi, già è andato in cassa ieri con una giocata sulle amichevoli, no, scusate, sulla Bundesliga 3. Oggi ci riprova con l'amichevole il nostro Morfeo, squadre islandesi in campo, Reykjavik contro Keflavik, andiamo col gol-gola 1,76 anche qui Stake 1. Vi lascio come sempre con i nostri tips, i movimenti di mercato, i consigli flash, come detto vittoria del Mitterland, l'Under tra Limpi e Copenaghen, vittoria dell'Arus con mezzo rimborso in caso di pareggio, l'X2 del Kfar Saba contro il Bnei e Unda per quanto riguarda l'Israele, poi il gol-gol tra Bernou e Lucla Poraga. Questo gol-gol in particolare a me piace molto, volevo metterlo come giocata ufficiale, poi mi hanno stoppato, però io secondo me personalmente ci giocherò su questo gol-gol. Va bene, siamo arrivati alla fine, oggi è una puntata un po' più veloce, oggi pomeriggio dovrebbe esserci anche una puntata di Sportusa News & Tips, perché bisogna parlare di MLB, tra l'altro nel weekend avevo promesso di spiegare un po' meglio la mia strategia dello stake fisso, delle puntate a stake fisso, e mantengo sempre le mie promesse, quindi oggi pomeriggio si parla di Baseball in Sportusa News & Tips qui su YouTube nel nostro canale il Bet Italia Web, di quando potrebbe tornare la stagione, di come potrebbe tornare, di tutte le varianti, di tutti i problemi che ci potrebbero essere, e poi visto che i risultati in KBO in Corea stanno andando bene, sempre più utenti si stanno appassionando al Baseball, pur non conoscendo nemmeno le regole base, ne parleremo un po', e come detto vi spiegherò il mio discorso strategico sugli stake fissi, poi mi potrete dare del pirla o meno, però mantengo sempre le mie promesse, quindi appuntamento oggi pomeriggio con Sportusa News & Tips, per tutto il resto continuate a seguirci sui nostri canali Telegram, dove esce tutto quello che non fa in tempo a uscire qui, Bar Sport Web e Bet Italia Web Dream Team sono gratuiti, tra l'altro su Telegram trovate anche tutti i nostri bonus commesse, le promozioni speciali con i nostri bookmaker partner, per esempio con BetaLand stiamo facendo un sacco di promozioni, insomma contattateci se volete supportare il nostro lavoro, avere in cambio bonus, promozioni e le migliori giocate dei nostri Tipser Pro, a me non resta che ringraziarvi, augurarvi una buona giornata, scommettete sempre con la testa, ciao!